Durante l'uragano, gli infissi delle finestre dovrebbero essere chiusi. Qui invece ci mostrano Tom intento a fissarle da aperte. Il tridente è poggiato sul corpo di Atlanna. Qualche secondo più tardi quest'ultimo è poggiato sul tridente. Che poi se quest'arma viene chiamata tridente, non credo sia stata una buona idea forgiarlo con cinque denti. E quando una persona si trova incosciente è impossibile che possa avere i muscoli rigidi e continuare a stringere gli oggetti nella mano. I televisori del 1980 ci impiegavano qualche secondo per riscaldarsi e accendersi. Guarda caso il programma trasmette una ripresa sul tema dell'oceano. E so parlare perfettamente l'inglese, nonostante il mio popolo subacqueo non abbia mai avuto a che fare con gli esseri della superficie e tra l'altro il 99% non può neanche respirare l'aria. Ma prima di continuare con il video, ti chiedo di spendere due secondi del tuo tempo per mettere il video in pausa, lasciare un mi piace qui sotto e iscriverti al canale. In questo modo supporterai il mio impegno e non perderai nessun prossimo video del tuo film preferito. Ti ringrazio in anticipo. Ah, quindi due esseri geneticamente diversi possono tranquillamente avere dei figli. L'uragano Arthur di categoria 4 raggiungerà la costa intorno alle 14. Che ne pensi di Arthur? Negli anni 80 non esisteva ancora l'uragano Arthur. Farà la sua prima comparsa negli Stati Uniti solamente nel 2014. Un errore gravissimo per un film dal budget di 200 milioni di dollari. Arthur nel bel mezzo della scena viene scambiato con una bambina avendo i capelli tre volte più lunghi. Come succede in ogni film, giusto per dare alla protagonista la possibilità di poter liberarsi da una situazione così difficile, tutti i nemici si piazzano a un metro di distanza e aspettano che reagisca in qualche modo. Devo tornare assolutamente. È l'unico modo per salvare il bambino. Ma allora qual era il senso di rischiare la vita di tuo marito e del tuo figlio se comunque hai l'intenzione di tornare a casa? I soldati sono venuti proprio per portarti via. Ma esiste un film di supereroi dove il protagonista principale non verrà abolizzato da bambino. Sembra che i produttori non siano in grado di girare un film originale senza l'utilizzo di cliché visti e rivisti. Il naso degli squali è il posto più sensibile in assoluto. Quindi mai nella vita questo potrebbe essere in grado di rompere una lastra di vetro così spessa sbattendoci vicino. Tra l'altro i produttori non conoscono lo spessore dei vetri negli acquari di questa grandezza, dato che nella vita reale un pesce potrebbe sbatterci contro fino a diventare un purè ma senza provocare una minima frattura. È un'idea stupenda sparare a raffica all'interno di un sottomarino trovandosi sotto pressione. Le lettere russe sono state scritte a caso senza avere alcun senso. Sembra che qualcuno abbia semplicemente sbattuto con la mano sulla tastiera. Se i pirati non volevano nulla del capitano, perché non l'hanno ucciso insieme a tutti gli altri? Hanno deciso di portarlo da Manta giusto per far vedere agli spettatori quanto è cattivo. E non te l'ho mai raccontato fino ad oggi solo perché ho letto il copione e so che tra poco dovrò morire. Inutile dire che seguendo le leggi della fisica, Aquaman esercitando una pressione così forte su una superficie così ridotta avrebbe semplicemente bucato il fondo del sottomarino con le mani, altro che lasciare solamente delle banali ammaccature. E dato che ha un mezzo sangue, quindi metà umano e metà atlantideo, non dovrebbe essere meno forte di qualsiasi atlantideo puro sangue. Perché nel film è tutto il contrario? Il blast dei pirati si sposta verso destra di una decina di metri durante il cambio di ripresa. I nemici sparano al centro dello scudo perché le gambe sono protette dalla sua aura del protagonista. Ed eccone un altro genio che non ci pensa nemmeno di togliere il dito dal grilletto nonostante veda benissimo che sta uccidendo tutta la sua squadra. Il lanciagranate ha un raggio di azione di 10 metri, quindi non so il padre che intenzioni avesse mirando ad acqua ma indistante un metro dal figlio. Voglio che mio figlio rimanga vivo e si salvi, quindi lascio scoppiare una bomba senza neanche dargli il tempo necessario di scappare e di salvarsi. Ma siamo sicuri che il padre lo voglia bene? Ha tentato di ucciderlo due volte nel giro di 5 minuti. In tali profondità c'è il buio più totale, altro che un'eliminazione fortissima come se ci trovassimo in fondo a una piscina. Ma come fate a parlare sott'acqua? In Justice League potevate comunicare solo all'interno di una bolla d'aria. Mentre su di noi incombe una terribile minaccia. La violenza ha sempre afflitto la superficie. Qual è il motivo alla base di un tale odio di Orm verso gli abitanti della superficie? Per l'inquinamento? È un motivo futile, dato che l'umanità ha inquinato solamente 0,01% dell'acqua dell'oceano. Il cliché della luna piena è presente anche in questo film. Aspetta un attimo, ci volete dire che l'attacco è stato effettuato dallo stesso sottomarino attaccato da Manta? Ma è impossibile dato che tutto il centro di comando era stato distrutto dai proiettili, le casse di immersione sono state danneggiate bloccando qualsiasi possibilità di manovra e tutta la squadra di Manta è stata uccisa da Aquaman. Quindi in nessun caso questo avrebbe potuto manovrarla senza l'aiuto di nessuno. Il sacchetto con le monete è caduto davanti a Manta. Un attimo dopo vediamo che si trova alle sue spalle, nonostante stesse fermo per tutta la durata della scena. In tutto ciò dall'inquadratura dall'alto il sacchetto scompare nel nulla. Non pensavo che l'acqua dello tsunami fosse limpida tal punto da lasciare libera la visuale per centinaia di metri. Le navi di legno nel giro di pochi anni si disintegrano in polvere. Queste invece sono rimasti integri quasi per intero. Ovviamente se sul fondale marino c'è una nave affondata, allora per forza sarà piena zeppa di monete d'oro. Gli occhi di Arthur sono gialli, nonostante nel film precedente fossero a colore oceano. Aquaman resiste le armi da fuoco. Beh allora è arrivata l'ora di attaccarlo con le spade. E quando anche quelle diventano inutili, l'arma più potente al mondo in grado di farle perdere sensi è ovviamente un semplice pugno. Pian piano passeranno delle semplici carezze. La maglietta di Arthur si asciuga nel giro di un taglio di ripresa. Fiume di lava sott'acqua. A quanto pare i produttori non sanno che la lava sott'acqua si raffredda nel giro di qualche minuto e smette di essere luminosa. Perché Orm e Arthur camminano sul fondale se durante il film tutti galleggiano senza toccarlo? I due sfidanti sono volati in alto, mentre gli spettatori continuano a guardare da qualche parte in basso. Clicché del salvataggio dell'eroe principale all'ultimo secondo non poteva mica mancare in un film d'azione. È abbastanza strano vedere delle tecnologie militari così avanzate a disposizione di una civiltà che fin dalla nascita non ha mai combattuto con nessuno. È come se i terrestri avessero a disposizione delle armi e navette per combattimenti galattici senza aver mai combattuto con gli alieni. A quanto pare queste balene sono venute qui per suicidarsi, dato che non ha senso la loro presenza in un'acqua riscaldata del lago di lava. Un buco di trama assurdo. Se Mera indossava questo braccialetto con il GPS magico, allora non c'è verso che siano riusciti a nascondersi nella bocca di una balena, dato che sarebbero stati scoperti nel giro di qualche minuto. A meno che Orm non abbia dimenticato la presenza del GPS e se lo sia ricordato solamente una volta che sono arrivati in superficie. Io non posso toccarlo, ma tu sì. Perché mai non puoi toccarlo? Riesce a respirare tranquillamente anche in superficie. Cosa ci blocca nel dargli la caccia a tu stesso e ucciderlo senza troppi problemi? Questa fessura enorme, larga a svariate decine di metri e che si intravede sulla superficie era completamente invisibile fino a due secondi fa. È ok che le costruzioni sul fondale dell'oceano non sono mai state scoperte dall'uomo, dato che solamente il 19% dei fondali oceanici sono stati esplorati. Ma che una fessura così larga nel bel mezzo del deserto non sia mai stata scoperta durante tutti questi anni è praticamente impossibile. Mera poteva prendere la goccia d'acqua anche dall'interno del suo corpo, non per forza da quello di Arthur. Scherzi molto maturi, al massimo potevi dire che avresti potuto sputarci sopra. Il regista ha deciso di non perdere troppo tempo a spiegarci in che modo i nostri eroi principali si sono trasportati dal deserto sperduto dell'Africa alle coste della Sicilia. La gente continua a far finta di non notare queste acrobazie della CGI, giusto per non rovinare il momento. Precisamente in cosa consisteva il rischio? Siete entrati nella sua bocca senza alcun problema o pericolo. Guarda caso tutte le altre statue si sono disintegrate quasi completamente e solamente quella necessaria per la trama rimaste integra con l'arto importante. E perché delle istruzioni trovate nel deserto dell'Africa dovrebbero riferirsi a una statua romana? La Sicilia è stata conquistata dall'impero romano nel 200 avanti Cristo e queste statue sono state create più o meno 2000 anni fa, mentre le istruzioni lasciate nella bottiglia insieme al tempio sono vecchi milioni di anni. Se l'arma a plasma distrugge le rocce come se fossero fatte di carta, dei vestiti di Arthur non dovrebbe rimanere neanche un filamento. E per la terza volta di fila i soldati Atlantidei si piazzano un metro di distanza dalla vittima e non fanno nulla aspettando che reagisca. Grandissimo, ora capiranno che il GPS si trova nel braccialetto e lo distruggeranno per colpa tua. Ma perché continui a perdere tempo in questi discorsi inutili invece di ucciderlo con il laser una volta per tutte? Ma se hai riconoscenza di tutto, perché non l'hai arrestato fin da subito? Perché gli hai permesso di allenarlo per tutti questi anni in modo da crearti problemi in futuro? Gli Atlantidei non possono respirare in superficie nonostante siano geneticamente identici agli umani a tal punto da poter fare dei figli, mentre i Grinch, creatori delle abissi, possono tranquillamente respirare fuori dall'acqua. La logica di questo film è abbastanza strana. Atlanna in mezzo alle inquadrature salta un metro più vicino verso Arthur. Mi sa che sia abbastanza difficile riconoscere tuo figlio di tre anni in un modello hawaiiano palestrato, tatuato e alto due metri. Perché il portale che ti ha fatto entrare qui non permette di uscire? Il tridente è l'unico modo per tornare. Sì, ma in che modo l'hai scoperto? Perché pezzi interi di questo film con le spiegazioni necessarie sembrano scomparsi nel nulla? Riesci a capirmi? Sì, è così. Ma se pensavi che non ti capisse, che senso aveva fargli questo lunghissimo discorso di benvenuto? Io non cozzuviglio dai uomini e ho molta fame. Eh sì, perché un mostro di queste dimensioni può senza dubbio nutrirsi con una bricela così minuscola. È come se un elefante mangiasse una formica. E se Karaten mangiava tutte le persone che tentavano di impadronirsi del tridente? Allora cosa mi dovrebbe significare questa montagna di scheletri? Se Arthur ha tirato il tridente con questa forza, come mai le mani di Atlan sono rimaste nella stessa posizione? Il tridente ci ha passato attraverso come se lo scheletro fosse un fantasma. Aquaman si trova sulla testa del mostro, ma in alcune riprese i grafici si dimenticano di disegnarlo. Perché questa emozione? Durante tutto il film più di una volta mostravi la tua denigrazione e vergogna nei confronti di tua madre. Perché adesso ad un tratto cambi totalmente e l'abbracci con questo affetto.